Sindaco, da poche ore, Francavilla è zona rossa, scuole chiuse, negozi chiusi, situazione da monitorare che desta ovviamente nella cittadinanza un po' di allarme. Sì, siamo attenti, monitoriamo i dati tutti i giorni, anche se devo dire che rispetto all'area metropolitana, Francavilla con i dati sta andando in leggera controtendenza, cioè si vede un leggero miglioramento che spero possa essere confermato nei prossimi giorni. Sì, siamo molto preoccupati per Santa Caterina, lì c'è un vero e proprio focolaio, sono arrivati in un primo step 13 persone contagiate dal virus, poi ne sono arrivate altre 7, arrivando al numero complessivo di 20, ma io ho notizia che anche altri operatori nei giorni scorsi sono stati dichiarati positivi e quindi questo numero di 20 tende ad aumentare. Inoltre so che l'istituto è in enorme difficoltà perché appunto sono colpiti sia gli anziani ospitati nella struttura, ma soprattutto gli operatori e quindi venendo meno la forza lavoro sono tutti molto preoccupati e spero che la ASL voglia intervenire subito su questo tema per aiutare la continuità nella continuità di Santa Caterina e per fare quanto necessario per la salute e soprattutto degli ospiti. I vaccini finalmente dopo le nostre proteste sono partiti, almeno per gli over 80, io so di diversi cittadini over 80 che sono stati chiamati, il criterio comunicatoci dalla ASL, anche questo finalmente oserei dire, è quello di vaccinare le persone più anziane e scendere via via verso l'età degli 80 anni. So che stanno provvedendo, occorrerebbe ovviamente uno sprint maggiore, una forza maggiore, ma questo dipende dalla disponibilità dei vaccini.